La Ter di Teramo ha annunciato la demolizione e la ricostruzione di quattro palazzine in via Giovanni XXIII a Collatterrato Basso, edifici che erano già stati sgomberati dopo il sisma del 2016 e che ospitavano 48 famiglie. Una decisione presa dall'azienda territoriale di edilizia residenziale dopo aver riscontrato che l'intervento di ristrutturazione avrebbe avuto costi simili senza però restituire a opera conclusa un adeguamento eccellente sul fronte della sicurezza sismica. Crediamo che a questo punto i tempi non dovrebbero allungarsi molto. Purtroppo la decisione di abbattere queste palazzine dopo cinque anni ovviamente sono cinque anni persi, questo purtroppo è il tempo perso. Per il resto adesso con le nuove procedure dovrebbero essere accelerate. Però noi al di là delle rassicurazioni e delle eventuali accelerazioni, noi vogliamo vedere i lavori e non le dichiarazioni. Per iniziare i lavori l'Ater di cosa si farà carico oltre ovviamente della demolizione? Diciamo che questa volta c'è un po' di collaborazione perché sia i costi e sia il lavoro sarà fatto dall'Ater e quindi almeno su questo punto si è venuto incontro alle esigenze degli inquilini. E speriamo che ovviamente oltre agli annunci sia effettivamente così perché se così fosse almeno un piccolo aiuto importante. E quindi gli inquilini dovranno scegliere quello che ancora è utile per la casa perché dopo cinque anni di abbandono purtroppo molte attrezzature sono da buttare, quindi quello che ancora si può salvare è quello che è da buttare. Questa è la scelta che deve fare l'inquilino. Chiaro che dopo cinque anni ancora i lavori teoricamente non iniziano, chiaro che siamo un po' scoraggiati. Almeno speriamo che quel piccolo aiuto dell'autonoma sistemazione non continui ad essere erogato con i tempi con ritardi proprio biblici. E quindi speriamo che ad esempio le mensilità di maggio e giugno non ce li paghino in autunno.